ciao a tutti oggi prepareremo il tiramisù da bere il tempo di preparazione della ricetta di 10 minuti circa ingredienti sono savoiardi caffè freddo zuccherato mascarpone panna per dolci latte freddo e gelata alla vaniglia diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale savoiardi e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spadola aggiungiamo in gelata la maniglia il caffè freddo zuccherato il latte il mascarpone e la panna ed azioniamo il bimbi per un minuto da velocità 6 a velocità 8 trasferire in dei bicchieri e servire con panna montata e cacao amaro tiramisù da bere grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.